Oggi ho una grande sorpresa per voi, prometto che ci divertiremo e allora andiamo subito a presentare il mio maestro coreografo Alessandro Felloni. Ciao Ale, benvenuto, grazie. Non vedo l'ora di cominciare, cosa facciamo oggi? Oggi Zumba, la lezione numero uno. Allora, dobbiamo spiegare però che cos'è la Zumba, è un grande fenomeno, ormai scoppiato in tutto il mondo, ma che cos'è? La caratteristica è quella di essere misto fra aerobica e balli latinoamericani, un modo per consumare tantissime calorie e divertirsi tutti insieme. Allora, noi siamo pronti e vorremmo divertirci? Certo, non mollateci. Run, Fede. Ok. No, no, no. Sì. Certo, non... W droolanda! So many weeks gonna touch you tonight I'm a big girl and no secrets this time Yeah, I love to make love to you, baby This would be a perfect world We'd be together, baby Holy God, just one life inside Who cares what they're gonna say I wanna dance, love, and dance, love, again I wanna dance, love, and dance, love, again, go home This, this, love, this, 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 love, this Baby, your fire is lighting me up The way that you move, boy, is reasoned And I love to make love to you, baby I can't behave, oh, I want you so much Your lips taste like heaven, so why should I stop? Yeah, I love to make love to you, baby Yeah, I love to make love to you, baby This would be a perfect world We'd be together, baby Do it, do it, do it, do it Holy God, just one life inside Who cares what they're gonna say I wanna dance, love, and dance, love, and dance, love, again, go home I wanna dance, love, again, go home Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì.